E a San Daniele invece è tutto pronto per Aria di Festa 2014, giunta alla sua trentesima edizione. Questa sera in particolare Igor Pezzi e Manuel Zolli presenteranno i numerosi eventi in programma, ma tra cui anche la cantante Malika Jan. Sentiamo. Al via la trentesima edizione di Aria di Festa, la festa proprio del prosciutto a San Daniele, ne parliamo con Igor Pezzi, il presentatore degli eventi. Igor, che cosa troveranno i nostri telespettatori se decidessero di raggiungerci a San Daniele? Bene, intanto un saluto a tutti. Cosa troveranno? Tanta musica, tanto divertimento, si parlerà ovviamente di prosciutto, però anche di cultura, si parlerà di, come dicevo, di musica, perché avremo un fior fior di ospiti, Malika Jan, nella serata inaugurale, quella di questa sera. Poi avremo Omar Pedrini, si parlerà di storia, della musica, insieme a una voce di Virgin Radio. Poi avremo anche il giorno di lunedì, avremo a chiudere la Kermesse Giuliano Palma. Dimenticavo invece la domenica, sarà dedicata a delle band friulane, i Carnicats e i Playa de Snuda. Saluto Michele, ciao Michi. E quindi insomma sarà sicuramente un bel palco, un ritrovo anche di amici, perché insomma dopo un po' di anni anche ci conosciamo. Io quest'anno ringrazio il Consorzio perché mi dà questa opportunità di presentare questa manifestazione. Ovviamente è molto conosciuta la festa del prosciutto a livello di spettacolo, perché ogni anno viene presentata una madrina. Quella di quest'anno avremo il piacere di avere Giorgia Surina, una showgirl, insomma già la conoscete, il volto di MTV, le varie sitcom, i vari spettacoli anche di zelling, eccetera, eccetera. Ci sarà lei un po' a tagliare la prima fetta di prosciutto. Bene, da un punto di vista organizzativo partirà quindi questa sera, venerdì, si svilupperà in quali giornate quindi? Quindi questa sera, poi nella giornata di sabato, nella giornata di domenica, è quella conclusiva, come tradizione vuole, del lunedì. Come si sviluppa? Ovviamente nel centro di San Daniele, ma ovviamente tutti i prosciutifici sono aperti, hanno i loro stand, potrete andare a visitare i prosciutifici e all'interno di ogni prosciutificio c'è sicuramente un tendone, un palco, dei chioschi per assaggiare i propri prodotti. Un invito finale, perché dovrebbero raggiungerci quanti non hanno mai partecipato? È molto semplice perché stiamo presentando uno dei prodotti che ci rappresenta in tutto il mondo, che è il prosciutto di San Daniele. C'è veramente da perdersi nel divertimento, negli stand anche di cultura, ricordiamo anche la cultura, anche questo aspetto è molto presente in questa edizione di Aria di Festa. San Daniele è anche una città molto molto bella per poter visitarla e la possibilità appunto di conoscere questo prodotto che ci rappresenta in giro per il mondo. Ricordiamo che siamo alla trentesima edizione di Aria di Festa, quindi vi aspettiamo un motivo in più per venirci a trovare, insomma, ok? Io sarò questa sera e poi le prossime sarò a mangiare il prosciutto, va bene?